Avere timore di Dio non significa aver paura di Lui, ma ricordarsi quanto siamo piccoli di fronte a Dio e al suo amore e che il nostro bene sta nell'abbandonarci con umiltà, rispetto e fiducia nelle sue mani, proprio come un bambino con il suo papà. Così Papa Francesco ha parlato del timore di Dio, settimo e ultimo dono dello Spirito Santo, nella catechesi tenuta questa mattina in piazza San Pietro, davanti a più di 35.000 fedeli. Il timore di Dio, ha spiegato il Papa, non fa di noi dei cristiani timidi e remissivi, ma anzi fa di noi cristiani convinti e entusiasti che non restano sottomessi al Signore per paura, ma perché sono commossi e conquistati dal suo amore. E il timore di Dio è anche un allarme di fronte al peccato, perché quando una persona vive nel male, quando bestemmia contro Dio, quando sfrutta gli altri, allora il santo timore di Dio ci mette in allerta. Attenzione! Con tutto questo potere, con tutti questi soldi, con tutto il tuo orgoglio, con tutta la tua vanità, non sarai felice. Ma voi pensate che una persona corrotta sarà felice dall'altra parte? No! Ma tutto il frutto della sua corruzione ha corrotto il suo cuore e sarà difficile andare dal Signore. Penso a coloro che vivono della tratta di persone del lavoro schiavo. Voi pensate che questa gente ha nel suo cuore l'amore di Dio, uno che tratta le persone, uno che sfrutta le persone con lavoro schiavo? No! Non hanno timore di Dio e non sono felice. Non sono. Che il timore di Dio, ha concluso Papa Francesco, faccia loro comprendere che un giorno tutto finisce e che dovranno rendere conto a Dio.